Presso il Convento della Maddalena, l'Associazione Scuola Italiana di Pesca a Mosca ha inaugurato la scultura dedicata al Museo di Castel di Sangro, che occupa due sale al piano terra del magnifico convento della Maddalena, struttura edificata per i frati minori osservanti nel 1487, laddove in precedenza sorgeva un asilo dei pellegrini della Pietà Sarentina. L'intento della Scuola Italiana di Pesca a Mosca di diffondere questa tecnica di pesca ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia dei nostri fiumi con la reimmissione del pesce in acqua. Questa è una scultura che abbiamo pensato tanti anni fa e quest'anno l'abbiamo potuta realizzare perché l'anno scorso, al ventesimo anniversario della fondazione del nostro museo, volevamo dedicare una scultura. Dato che l'anno scorso eravamo in piena pandemia, abbiamo pensato di realizzarla con i tempi giusti perché una scultura del genere, questo è marmo di Carrara, molto prezioso e molto bello, doveva avere dei tempi di realizzazione e l'abbiamo commissionata allo scultore di Castel di Sangro, Emilio Catullo, che l'ha realizzato con i tempi giusti. Oggi la inauguriamo perché da fuori il Convento della Maddalena non si vede che cosa c'è dentro. Allora abbiamo una pietra del Museo Civico a Fidenate e la nostra scultura del Museo della Pesca Mosca, che sono i due musei che insistono nel Convento della Maddalena, oltre al Museo della Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo che questa è una caratterizzazione per lanciare un messaggio che a Castel di Sangro c'è il Museo della Pesca Mosca, al di là dei cartelli stradali che abbiamo inserito. Oggi questo ambiente è essenzialmente un luogo di cultura, infatti nelle sale al primo piano è operativo un museo di archeologia gestito dall'archeoclub di Castel di Sangro, mentre altre sale sono dedicate a mostre temporanee di arte contemporanea e classica, che richiamano artisti e visitatori da tutta Italia. Questa è la mia seconda grande opera perché la prima l'ho realizzata qualche anno addietro, è il simbolo del Museo di Affidenate di Castel di Sangro. Questo è quello che ho realizzato, questo pescatore, anche perché sono legato a Castel di Sangro, abito a Castel di Sangro, ma sono stato un grande pescatore sin da ragazzo. Quindi è un qualcosa che mi contempla, è un qualcosa che mi racchiude anche in questa opera. Per la città rappresenta sicuramente una, come dire, una continuità con tutto quello che è stato fatto in passato e per il territorio sicuramente un punto di riferimento, a livello sicuramente dell'Alto Sangro, ma non solo. Esistono anche delle forme di collaborazione con la scuola, quindi vengono coinvolti i ragazzi per avvicinarli quanto più possibile a questa disciplina sportiva che è veicolo non solo di valori sportivi ma anche di valori culturali. Quindi è importante che i ragazzi di oggi continuino con quella che è la tradizione.